Ciao a tutti. Io mi chiamo Elisabetta Maio. Il mio nome segno è questo. Io sono candidata nella lista di Forza Italia Berlusconi per Bergamo. Se volete votarmi dovete barrare sul simbolo Forza Italia Berlusconi per Bergamo e scrivere il mio nome Maio. Adesso vi racconto la mia idea di città. Io vorrei che Bergamo diventasse una città accessibile per tutte le persone disabili. Una città accessibile e fruibile in modo che le persone siano autonome. Tutte le persone disabili devono essere autonome. Questo è il mio obiettivo. Io sono una mamma e una nonna. Prima di tutto mi interessa i luoghi pubblici. Io vorrei aumentare gli spazi verdi. E in secondo luogo voglio che questi siano in totale sicurezza e vigilanza. Le strade vorrei che fossero comode e pulite e gli spazi adatti e sicuri alle persone. Inoltre è molto importante creare lavoro per i disabili perché fino ad oggi ci sono delle liste per il collocamento mirato ma non funzionano. Il lavoro per i disabili è molto importante. Ci sono molti settori di mio interesse però la mia preferenza ricade sul settore della disabilità e dell'accessibilità. Questo settore è veramente importante. Io sono una persona sorda e chi meglio di me può capire come si vive da persona disabile. Il mio compito sarà quello di risolvere e agevolare i servizi come mezzi di trasporto in generale. Io vorrei che Bergamo diventasse una città di riferimento a livello nazionale. Che diventasse una città di ascolto, comunicazione e servizi informativi, formativi e culturali in generale. noi vogliamo accessibilità sociale, sanitaria, scolastica e lavorativa per garantire autonomia e privacy alle persone. Questo è il mio obiettivo. è il mio obiettivo. Grazie. 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 Grazie.